Ho capito il grande valore che abbiamo e che ho essendo un italiano, ma l'ho capito soprattutto viaggiando e questa Italia merita molto, ma molto di più di tutto ciò che noi italiani diamo all'Italia. Io vedo le facce degli stranieri quando incontrano un italiano, quando ascoltano musica di un italiano, dalla Russia alla Polonia, dalla Romania alla Sud America, poi vedo le facce che si illumina, poi il fatto di essere italiano e portare quella musicalità, perché nella musica sappiamo si nascondono dei valori e si esprimono dei valori che grazie a Dio vengono anche appolti alla gara. Quindi che cosa dobbiamo fare noi? Amare, amare, amare e portare sempre l'amore che abbiamo per questa meravigliosa terra che lo merita tutto. Grazie.